ciao ragazze ciao ragazzi benvenuti e ben ritrovati sul mio canale come avrete letto dal titolo oggi finalmente andremo a girare il video degli swatch dei nuovi rossetti della linea avon in matte legend vi anticipo già che su ho applicato il primo l'ho applicato per tempo perché volevo farlo asciugare un pochino per fare ovviamente con voi la prova trasferimento quindi il primo colore questo che ho indosso è il warty io sto con il catalogo di campagna 2 se può esservi utile perché secondo il mio personalissimo parere i colori riportati sul catalogo di campagna 2 corrispondono in modo più verosimile al rossetto effettivamente che poi vi trovate tra le mani ci tengo a precisare anche un'altra cosa che ovviamente mancabilmente ci sono stati degli errori nella spedizione si ho controllato hanno sbagliato loro dalla casa madre mancano due colori quindi se tra adesso vi dirò i nomi se i due rossetti che vi interessano sono questi due potete pure sentire solo la prima parte dove li confrontiamo anche con altri rossetti in linea avon e poi vai passare il resto perché comunque non vedrete il diswatch sto parlando di desiré e di wanted che sono rispettivamente un nude e invece un bel fucsia fluo come vi dicevo questo che indosso è palesemente un nude sto parlando di warty l'ho applicato già da un po sia per confrontarlo con altri prodotti in gamma e in particolare sto parlando ovviamente di loro gli altri matt gli altri matt presenti in catalogo sia per fare con voi una volta che sia bello se stato il prodotto un prova swatch c'è una prova che prova sbocca una prova transfer per vedere se si trasferiscono ovviamente penso che sia abbastanza scontato di sì e però quanto si trasferiscono quindi andiamo adesso a fare la prova abbiamo qua la mia bella mano come potete vedere si trasferiscono ma non in un modo eccessivo tutt'altro lasciano giusto appunto un alone quindi devo dire che settandosi e mettendosi lì il trasferimento è tutt'altro che fastidioso poi lo rifaremo anche con dei colori un pochettino più scuri vi dicevo li ho voluti confrontare quindi negli scorsi giorni anche per questo ci ho messo un pochettino con degli altri prodotti molto conosciuti sul nostro catalogo qua le prendo ovviamente ho preso tutti i colori che non ci azzeccano niente con quelli che ci stanno della matt legend vabbè questo è un classico matt normale che già conosciamo nel catalogo faccio questo confronto perché potrà capitare che le vostre clienti trovino entrambi i prodotti sul catalogo o che ne trovino alcuni su il catalogo subito successivo subito precedente quindi vi possano chiedere la differenza tra un prodotto e l'altro questo è il classico matt e adesso accanto gli vado a mettere un colore dei matt legend più simile possibile eccolo qua penso che un pochino la differenza si vede non tantissimo ma un pochino sì eccoli qua allora questo è il matt legend la colorazione è la legendary mentre dei matt normali vi ho swatchato il red supreme come potete vedere si assomigliano uno un po più freddo l'altro un po più caldo quello che li differenzia quando li differenzia quando li andate voi ad applicare sulle labbra è che i matt legendary sono più polverosi ci hanno danno quasi una sensazione di vellutato a confronto dei matt che invece sono più il classico proprio rossetto matt anche abbastanza scorrevole in applicazione ma non lascia questa sensazione proprio di polverosità di velluto come se aveste tamponato il rossetto con una cipria sapete quando si utilizzava la cipria per cercare di mattificare dei rossetti satinati cremosi che non ci piacevano più ma volevamo continuare ad utilizzarli come matte ci andavamo a passare con la velina la cipria la sensazione è quella hanno una sensazione di applicazione completamente diversa dall'una all'altra è proprio sensazione differente per quanto riguarda la durata a me entrambi durano a sufficienza trovo che i matt legendary mi durino leggermente di più mi concedano quell'ora in più rispetto ai matt normali quindi il sunto della situazione è che a me piacciono anche molto i matt ma sinceramente vi consiglio di provare questi rossetti iniziamo subito vi faccio alla fine del video tutta la carrellata delle foto dei rossetti penso e con foto diciamo con luce naturale e vi ricordo che sul mio sulla mia pagina instagram dove sono sarà quanto basta li troverete man mano pubblicate le foto un pochino più in dettaglio comunque potrete poi prendere quelle io direi di iniziare subito mi vado a struccare il primo colore che vi ripeto è il warty eccolo qua e passo al secondo eccoci qua ragazze ho applicato il secondo colore che è il flowerless io spero che si pronunciino così non me ne vogliate male è questa bellissima tonalità di rosa antico ve lo lo swatch sulle mani lascia sempre un po il tempo che trova perché come potete vedere risulta più chiaro rispetto a quello che poi appare sulle mie labbra fermo restando che come vi dico sempre io ho una pigmentazione delle labbra abbastanza intensa quindi di solito quel mezzo tono in più ai rossetti glielo regalo infatti se andate a vedere sulla mano risulta molto più rosato chiaro rispetto a quanto poi risulta applicato sulle mie labbra questo come vi dicevo è il flowerless chiedo scusa ragazze se sentite dei rumori di sottofondo ma penso che non capiti solo qui da me hanno deciso che tutti i lavori del mondo vanno fatti adesso in questo periodo dell'anno ci vediamo tra poco con il terzo swatch eccoci ragazze con il terzo swatch questo che ho indosso è il perfection come potrete notare la differenza tra questo e il precedente è veramente molto molto sottile qui siamo davanti a una tonalità più fredda rispetto alla precedente prevale un pochino di più il blu la punta di blu all'interno che fa percepire il rossetto come più rosato rispetto al precedente che rientra ancora di più nella fascia dei nude a tal proposito per farvi vedere la similitudine visto che come abbiamo già affrontato in precedenza il problema la tonalità delle mie labbra probabilmente influisce quando c'è un distanziamento così minimo di colorazione tra una tonalità e l'altra andiamo a vedere lo swatch sulle mani ho ottenuto qua il precedente che è il flowless e adesso vi vado a swatchare il perfection accanto come potete notare penso che si veda anche dalla camera la tonalità è molto simile è più rosato più rosato freddo il perfection che è questo che appunto indosso in questo momento penso che su mano sulla mano che è una tela un pochino più neutra rispetto alle mie labbra sia più evidente la differenza ragazzi eccoci qua siamo al quarto swatch il colore che indosso è il crabe questo probabilmente vi lascerà un pochino interdette perché in tutti i cataloghi che ho visto sembra molto più marrone sembra un vero marrone scuro mentre come potete vedere ha un vinaccia un vino molto intenso lo vado a sbocciare anche sulle mani tra l'altro è uno dei pochi colori che ho sbocciato che non è subito uniforme dalla prima passata è come se facesse vedere al di sotto quello che c'è come potete vedere comunque è un colore decisamente tendente al rosso seppur ha del marrone scuro del nero all'interno da almeno le foto che io ho visto la percezione è completamente sbagliata quindi attenzione a questo colore che è il crabe torno subito con il prossimo swatch eccoci qua in presenza del primo rosso che andiamo ad incontrare questo è il legendary vedrete poi confrontandolo con quello successivo che è un rosso molto più freddo rispetto a quello che vedremo dopo anche qui c'è una bella percentuale di blu che lo rende bello saturo bello carico e molto scuro molto scuro nell'ambito dei rossi ovviamente è proprio un bel una bella tonalità e ci tengo a farvi lo swatch perché poi lo confronteremo con l'altro tenete presente che normalmente perché poi questa è un po' una divisione globale del mondo c'è chi ama più i rossi caldi e chi i rossi freddi che a far tendere magari la coda della bilancia tra l'uno e l'altro è che essendo essendoci presenza di blu all'interno dei prodotti freddi normalmente i denti di contrasto risultano sempre un pelino più bianchi se vi può essere d'aiuto vi ripeto questo è il legendary una bella tonalità di rosso eccoci qua ragazze allo swatch dello stuntman questo finalmente è secondo me rispetto a quelli che abbiamo visto adesso uno dei colori più primaverili in estate primavera questa tipologia di colore questo ciclamino va veramente alla grande ecco vi ho detto ciclamino perché secondo me rappresenta benissimo lo stuntman che è un fucsia sempre molto freddo e per freddo intendo che ha quella puntina di blu all'interno che lo fa virare verso i colori freddi che ripeto va molto normalmente in questa tipologia di stagione ho lasciato i precedenti swatch per farvi vedere anche questo accanto perché sempre da catalogo può attrarre in inganno eccolo qua questo è lo stuntman ci vediamo tra pochissimo con gli ultimi due swatch credo ciao ragazzi eccoci qua al penultimo swatch questo era quello che temevo maggiormente per due validi motivi uno chi mi segue da un po' sa quanto temo i colori così fluo perché ritengo che mi stiano proprio male quindi questo è uno dei momenti che odio maggiormente e il secondo è perché il nome è impronunciabile quindi facciamo un patto di sangue io non pronuncerò mai questo nome lo leggerete in sovraimpressione impressione capite perché non posso pronunciare e ci faremo una ragione ognuno lo chiamerà come meglio crede come potete vedere ha un colore molto fluo un bel fucsia sicuramente su una bronzatura estiva sarebbe benissimo speriamo quindi dunque di poterci abbronzare vi faccio lo swatch accanto al precedente eccoli qua devo dire che sembrano molto più simili dagli swatch ma questo vi garantisco che è molto più acceso molto più vivace come colore eccoci qua ragazzi davanti all'ultimo swatch questo è l'admir è l'unico viola presente nella linea almeno per il momento ve lo swatcho, swatcho sempre ve lo metto qua va tanto è unico nel suo genere non si va a sposare con nessun altro di quelli che vediamo è una bella tonalità di viola abbastanza portabile occhio soltanto al fatto che il viola così come il blu invece rividenzia un pochino i denti più bianchi il viola tende a mettere in risalto il giallo dei vostri denti quindi attenzione ai viola però devo dire che è una bella tonalità per una volta un viola che si può apportare senza sentirsi una completa o un'emerita scema come vi dicevo questo è l'admir ci vediamo tra pochissimo per le conclusioni finali eccoci qua ragazzi finalmente giunte alle conclusioni finali purtroppo non sono riuscita a mettervi le foto al termine del video anzi vi invito a seguire il mio profilo sarà quanto basta su instagram o cercherò comunque di metterla anche sulla pagina facebook sempre sarà quanto basta perché c'è veramente troppa luce fuori venivano male le foto e oltretutto man mano che li toglievo e li rimettevo ovviamente la base si è andata a rovinare quindi diciamo che non venivano delle foto molto accattivanti cercherò di farle poi più avanti magari dando una pausa tra una fotina e l'altra e beccando un po' all'orario del giorno dove c'è una luce più adatta perché in questo momento mi cieca proprio è fortissima arrivando alle conclusioni finali sono dei bei rossetti si lasciano portare seccano ovviamente un pochino le labbra a lungo andare hanno bisogno di una ritoccatina durante il trascorrere delle ore soprattutto se anche voi come me purtroppo fumate o state sempre lì a ciancicare a bere e via discorrendo però sono sicuramente degli ottimi rossetti hanno un costo assolutamente diciamo amichevole perché 6,99 euro all'incirca per un rossetto del genere è assolutamente un prezzo non solo corretto per la qualità dei prodotti ma assolutamente vantaggioso ragazze come sempre io vi lascio sotto nell'info box la mia email se avete bisogno di comunicare con me e vi chiedo gentilmente nel caso vi faccia piacere aiutare il canale a crescere di mettere un mi piace di iscrivervi al canale assolutamente gratuito se vi va condividete questo video con tutte le vostre clienti con le vostre presentatrici dei vostri gruppi nel caso in cui vi possa essere utile vi mando un bacio grande grande ci vediamo alla prossima grazie per aver visto questo video